Grazie professore, grazie a tutti per questo invito e per l'organizzazione di una giornata in ricordo di Carlo Musca. Un ricordo di un amico, di un collega, un ricordo di un grande uomo che ha fatto un po' anche la storia della nostra amministrazione. Quando io ho avuto l'invito a partecipare, nonostante i numerosi impegni, ma ritengo che sia doveroso, dovuto da parte di tutti noi essere presenti e partecipare e portare quello che è un po' la linea del suo pensiero. Quando io ho sentito nei vari interventi che mi hanno preceduto, quando si parla di Carlo come un grande innovatore nell'intelligence, Carlo è stato un grande innovatore anche nel portare avanti una visione dell'amministrazione diversa, più moderna, più adatta ai tempi che man mano andavano mutando. Noi consideriamo che dalla riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza nell'81 e soprattutto ricordo quello che lui ha impostato e portato avanti come riforma della nostra categoria, della categoria dei prefetti, della carriera prefettizia. Il suo impegno nel portare caperbiamente avanti quello che era un progetto di riforma che devo dire all'inizio ci sembrava anche a noi eccessivamente sbilanciata quando si parlava dei posti di funzione, di ognuno che dovesse avere un ruolo ben preciso dell'amministrazione, anche noi giovani perché Carlo rappresentava un poco quella che era la storia dell'amministrazione più grande di noi e quindi noi giovani avevamo difficoltà a star lì dietro proprio perché erano concetti così innovativi per tutti noi. Però io devo dire che Carlo, proprio grazie al suo intenso lavoro, noi oggi abbiamo un'amministrazione che rappresenta un solido punto di riferimento soprattutto in un momento difficile quale quello che abbiamo vissuto in questi due anni, due anni di pandemia che hanno visto le prefetture avere sempre più un ruolo fondamentale sui territori, un ruolo di ascolto, di mediazione a livello territoriale proprio per intercettare ogni segnale di disgregazione del tessuto sociale ed economico e certamente questi segnali di disgregazione si sono visti, si sono sentiti e ancora di più lo stiamo vedendo ora quando siamo in una fase, speriamo, dove si parla di un tunnel e pare che vediamo la luce in fondo al tunnel e proprio in questi momenti noi abbiamo visto e abbiamo vissuto momenti di grande difficoltà perché non dimentichiamo che anche la chiusura diciamo al mondo esterno, il fatto di aver vissuto un periodo di lockdown, pensiamo anche alla difficoltà che hanno i ragazzi e che hanno vissuto in questo periodo di chiusura, di rapporti, perché non dimentichiamo che la scuola ha un ruolo fondamentale perché è un ruolo dove si costruiscono rapporti e dove si cresce, ci si aiuta insieme ad affrontare il mondo che c'è fuori da quelle aule eppure quel momento è mancato ed è stato un momento davvero che ha lasciato dei segni e lo vediamo anche ora nelle manifestazioni, nel senso di disagio che hanno i giovani oggi e allora intercettare anche questi segnali da parte dei prefetti è importantissimo perché bisogna instaurare un dialogo, un dialogo, un confronto soprattutto anche coinvolgendo quelle che sono le strutture scolastiche, quella che è coinvolgendo la società civile perché quando noi vediamo un grande senso di disagio non è soltanto un'attività del Ministero dell'Interno come prevenzione o come repressione dei reati, quando già parliamo di repressione vuol dire che abbiamo fallito una parte della società ha fallito nel proprio compito, non è andato alla sostanza, non ha seguito alcuni percorsi lineari che invece avrebbero dovuto assolutamente tenere presente quello di sentire, di ascoltare, di essere vicino ai ragazzi e quindi io vorrei dire anche che a proposito mi rifaccio a quello che diceva anche Antonelli il discorso della sicurezza, il discorso del bene sicurezza che certamente nel corso del tempo ha subito un'evoluzione un'evoluzione nel senso che ha una dimensione sempre più ampia perché da prerogativa esclusiva dello Stato oggi dobbiamo pensare che ha progressivamente acquisito un carattere plurale che vede partecipare alla sicurezza i comuni ma anche quelli che sono i privati, le attività dei privati, il mondo dell'associazionismo, i corpi intermedi, la società civile e l'intelligence mai come oggi in grado di misurarsi con l'evolversi delle minacce, degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali del nostro paese. La sicurezza quindi raggiunta nel nostro paese è fondata proprio sull'idea che per la sua garanzia e la sua costruzione bisogna che ci sia uno sforzo collettivo basato su una concezione che tende a esaltare competenze specifiche, specialistiche oltre che ovviamente la conoscenza dei territori. Devo dire che su questo grande è stata l'attività delle nostre strutture periferiche parlo anche non soltanto delle prefetture, delle forze di polizia in generale che sempre dobbiamo ringraziare per il ruolo di difficile mediazione in questo momento. Di difficile mediazione perché si tratta di bilanciamento dei diritti. Ecco non so chi di voi prima ha parlato della necessità di che ci sia sempre un bilanciamento dei diritti. Mi ritorno a quello che dicevo prima delle manifestazioni, il bilanciamento del diritto a manifestare ma nello stesso tempo il bilanciamento con altri diritti che sono per esempio i diritti della salute pubblica l'abbiamo visto come in tutte le manifestazioni di coloro che sono dei Novax che hanno determinato problemi abbastanza notevoli sul territorio. Se voi considerate che in alcune, in quasi tutte le realtà territoriali abbiamo avuto, non dico ma tantissime, ogni sabato, pensate ogni sabato per 23-24 sabati di fila abbiamo avuto manifestazioni con grandi proteste. Quindi voi pensate anche il grande impegno delle forze di polizia che hanno dovuto misurarsi con una violenza da una parte e dall'altra parte con l'esigenza comunque di garantire l'ordinato svolgimento delle manifestazioni perché quando io ho emanato nel novembre 2021 quindi pochi mesi fa una direttiva proprio sull'ordinato svolgersi delle manifestazioni ho sempre ritenuto che ci sia l'esigenza di garantirle assolutamente le manifestazioni è un diritto democratico e noi siamo uno Stato democratico ma dall'altra parte c'era l'esigenza anche di garantire i diritti altrui, il diritto di mobilità, il diritto allo studio, il diritto di svolgere anche le proprie attività imprenditoriali e questo è stato una direttiva molto pensata, misurata perché bisognava dire le cose quello che volevamo dire ma bisognava anche tenere presenti quelli che erano i principi costituzionali entro cui noi ci dovevamo muovere e quello è stato diciamo molto complicato però io credo che è stata una direttiva necessaria in quel momento perché era anche per dare un segnale diciamo di quello che è l'ambito di svolgimento delle proprie attività anche in materia di manifestazioni quindi vorrevo dire che ritornando all'intelligence a quello che diceva Marco Valentini prima l'intelligence certamente è stato uno degli argomenti più amati e approfonditi da Carlo certamente è stato innovativo in quegli anni che è stato alle agenzie però quello che lui ha lasciato è certamente l'esigenza della necessità di conciliare le attività del comparto con la difesa delle garanzie democratiche che per lui rappresentavano un baluardo invalicabile e quindi proprio per questo però vorrei aggiungere anche una mia considerazione su questo abbiamo molto parlato di intelligence abbiamo parlato del bilanciamento dei diritti che erano principi che Carlo teneva molto fermi e su cui ha diciamo vediamo i libri che lui ha scritto il bellissimo ultimo libro che non ha potuto vedere pubblicato neanche a farlo apposta dopo pochi giorni da quando ci ha lasciato noi abbiamo avuto anche l'onore di avere il suo libro che davvero sembra un testamento di quello che è la sua linea di come ha vissuto quei principi però non abbiamo tanto parlato di alcuni principi su cui Carlo davvero poneva a cui Carlo poneva la massima attenzione e a cui ha dedicato anche l'ultimo periodo della sua vita che è il principio dell'etica l'etica che ognuno di noi deve avere e perché ha parlato di etica nell'ultimo periodo? perché ha visto anche la disgregazione di quelli che sono i valori sociali dei valori sociali non soltanto ovviamente nella nostra amministrazione ma una disgregazione di alcuni valori nella società e allora su questo lui anche soprattutto ai giovani dedicava una parte specifica quando ognuno di noi è andato a casa di Carlo ognuno di noi ha avuto la possibilità di stare con lui di andare nella sua casa piena di libri quando lui era al Consiglio di Stato e sappiamo bene il lavoro gravoso gravoso davvero al Consiglio di Stato e quindi Carlo era circondato da tutti i fascicoli da tutti i libri eppure ecco lui parlava sempre di questo di dire di tramandare ai giovani questo io mi sento davvero di farlo anche in questa occasione sì va bene organizzare convegni lo trovo giusto anzi meritevole però io più che organizzare convegni a cui partecipiamo sempre volentieri io vorrei che questi principi che Carlo ha portato avanti in tutta la sua vita professionale venissero davvero recepiti soprattutto dai colleghi più giovani che avranno in mano poi l'amministrazione e l'amministrazione del futuro se non si parte dai principi di etica io credo che anche gli altri principi anche quelli del bilanciamento dei diritti ma i diritti tu ce li hai se tu hai un'etica e allora se tu non hai quei principi dentro di te ma soprattutto se non li hai assorbiti è difficile che tu possa dare il tuo contributo anche per la crescita di una società che poi è quello che noi facciamo come che si fa sul territorio come prefetta aiutare un territorio nella crescita nella crescita salvaguardando quelli che sono i diritti dei più deboli dei più fragili e nello stesso tempo preservando quelli che sono i principi di democrazia e questo io mi sento di dirlo perché vedo che si è parlato un po' di tutto ma di questo aspetto che io ritengo invece collegato agli altri principi che voi avete portato avanti che è quello sui diritti il bilanciamento dei diritti su quello che è l'innovazione che Carlo ha portato in tutti i settori dove è andato ma Carlo innanzitutto era un gran duomo Carlo innanzitutto era una persona per bene con grande senso dello Stato e con grande senso etico e quindi io vorrei che questo fosse tramandato ai giovani tutto il resto poi viene dopo perché poi la nostra amministrazione è un'amministrazione che riesce a non voglio dire a plasmare i giovani ma certamente a dare quel senso di comunità ai giovani e allora se uno ha dei principi positivi poi quei principi li sviluppa e li fa crescere aiutando anche l'amministrazione nell'essere sempre più vicino ai cittadini e vorrei quindi ricordare a questo punto mi piace leggere le parole del prefetto Carlo Mosca che cogliendo proprio la peculiarità del ruolo del prefetto ebbe a dire il legame dei prefetti e delle prefetture con il territorio e con i problemi della gente che vive sul territorio risale a oltre 200 anni fa quando a base della istituzione del corpo prefettizio fu posta proprio la volontà di mobilitare i prefetti e le prefetture nella significativa ricerca dell'interesse generale del bene pubblico quindi queste credo che siano le parole più belle per ricordare Carlo la sua figura e il suo esempio che ci accompagneranno ancora a lungo nella nostra vita personale e nella nostra vita professionale grazie